Per quanto riguarda le residenze sanitarie assistite, ovviamente non entro nei problemi legali o delle procure che non mi competono e che credo certamente troveranno poi una risposta nelle settimane o nei mesi futuri. Questo si sapeva fin dall'inizio che sarebbero stati dei punti di potenziale diffusione del virus e soprattutto di aumentata letalità. Le persone che sono accolte nelle residenze sanitarie assistite per definizione hanno bisogno di assistenza, per definizione hanno una situazione sociale, diciamo, fragile e quindi come tali sono molto più vulnerabili non solo a questo coronavirus ma tutta una serie di infezioni per cui la mortalità è molto alta. Per questo motivo l'Istituto Superiore di Sanità ha cominciato fin dai primissimi giorni a monitorare la situazione dell'RSA e ha già prodotto due versioni di un documento che è agli atti della Commissione tecnico-scientifica per monitorare specificatamente l'RSA e per avere, diciamo, un piano di controllo di quello che può essere la diffusione all'interno di queste strutture perché ovviamente si prevede che a parte quello che è successo, su cui magari non siamo noi deputati a giudicare, ma quello che verrà sarà molto importante. Avrà notato che nel Lazio e in altre regioni sono state create delle zone rosse addirittura dentro l'RSA, cioè RSA che sono state svuotate o che sono state chiuse, proprio perché sappiamo che quello è un punto assolutamente crociale di definizione. L'Istituto Superiore di Sanità in accordo con la Commissione tecnico-scientifica, con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, con il Consiglio Superiore di Sanità, ha in atto un piano per il controllo della diffusione del virus all'interno dell'RSA che insieme ai nuclei familiari saranno in futuro, quando speriamo la diffusione del virus comincerà a diminuire in maniera significativa, i potenziali, tra i principali potenziali ruoghi di nuovi focolai. Quindi le garantisco che l'attenzione sull'RSA è massima e c'è un piano che è già in fase molto avanzata di preparazione per dare il massimo del controllo agli ospiti di queste strutture e ovviamente anche al personale che lavora dentro queste strutture.